Conferma la sua vocazione come luogo d'incontro aperto alla città nel quale trovano spazio le arti e il sociale a fianco al business la sede di sintesi a Perugia che ha infatti ospitato nella stessa giornata due appuntamenti a cominciare dalla presentazione della ricostituita associazione donatori di Midollo Osseo Umbria per poi lasciare spazio a un incontro informativo sul welfare aziendale. Oggi abbiamo proprio completato e chiuso un cerchio perché questa mattina abbiamo avuto una conferenza stampa partecipata bella lunga ricca di spunti dove è stata presentata la neo ricostituita ADMO oggi abbiamo poi vissuto una giornata meravigliosa con i nostri clienti raccontandogli quello che è il mondo del welfare che poche aziende realizzano e quindi noi abbiamo voluto dargli questa informazione e questa possibilità di avere questa opportunità tra l'altro utilizzando un marchio che è Unipol Sai, Unisalute e la piattaforma WellBeat. WellBeat è la welfare provider del gruppo Unipol, è una società che aiuta le aziende ad implementare dei piani welfare al loro interno godendo di tutti i vantaggi fiscali ma non solo perché il welfare aziendale è un elemento valorizzante delle risorse umane e non dimentichiamo che ad oggi l'attenzione dei dipendenti è sempre più focalizzata non esclusivamente sulla RAL e quindi sulla parte retributiva ma anche su un discorso di benessere e di servizi che vengono comunque incontro alla conciliazione vita lavoro e a tutta una serie di altri elementi legati non più esclusivamente alla retribuzione. WellBeat si rivolge a tutte le aziende dalla grande azienda ma anche alla piccola, alla micro azienda, alla PMI consentendo di implementare delle soluzioni welfare che siano perfettamente calzanti rispetto alle loro esigenze in termini di dimensione aziendale quindi di complessità o non complessità dell'azienda ma anche di portafoglio dedicato da erogare i propri difendenti. Solo alcuni contratti collettivi di lavoro hanno introdotto obbligatoriamente il welfare in tutti gli altri casi è opzionale ma rimane certamente uno strumento importante per promuovere il benessere dei dipendenti. L'importanza del welfare ormai è risaputa un pochino da tutti. Noi siamo molto attenti a questa tematica perché già dall'inizio da quando c'è stata la possibilità l'abbiamo portata avanti per i nostri dipendenti per migliorare la loro situazione. Questa esperienza che noi abbiamo vissuto e che stiamo portando avanti la vogliamo trasmettere anche ai nostri clienti cercando di creare quelle che sono le condizioni affinché loro stessi possano far suo uno strumento molto molto importante. Grazie a tutti.